In questo periodo come saluti? Con il pugno? Oppure così? In autunno facciamo tre puntate di Zelig, io e Vanessa in contrada, con tanti comici. Mi piacerebbe avere, stiamo facendo casting per avere, anzi lancio un messaggio. Sappiate che in autunno ci saranno queste tre puntate e se qualcuno sa di essere, avere una verve comica, siamo in attesa di voi. I want you!